E prima di presentare i nostri ospiti, iniziamo con una lettura. Robbiamo il ghiaccio legge. Legge? Va bene. Ascoltare, speriamo. Quando nacque, era il quarto giorno del mese di marzo dell'anno 1678. Era di venerdì. Era giorno di sfortuna. Quando nacque, un terremoto serpeggione alle viscere di Venezia, squassò il cuore della sua gente. In quella furia della terra, tra la paura che crescera, il demonio cercò di impossessarsi di quella creatura alla quale il padre Giovanni Battista Ivaldi, barbiere violinista nella cappella privata del Doge, e Camilla Camicchio, figlia di un sarto che veniva da sud, dalla provincia di Matera, da Pomarico, avevano dato il nome di Antonio, sussurrando una preghiera al santo perché plagasse la terra che tremava. Quando Antonio nacque, il diavolo che si aggirava in mezzo alle rovine, lo insidio, lo germinò, lo viò, gli strinse il petto, tentò di soffocarlo. Fu Margherita Veronese, sua animatrice e baria, assottragolo alla brama del maligno, alla sua crudeltà, alla sua perfiglia, con un battesimo che gli diede, in cui l'urcenza, nel nome della Santa Trinità. Ma prima di rinunciare a quel fanciullo, il maligno gli lasciò l'affanno, l'asno, e la maledizione di una musica che non si sarebbe mai compiuta, che sarebbe rimasta sempre compressa nel pensiero. Quella musica contratta, Antonio Vivaldi, si portò per sempre dentro. Mentre ascoltava il padre suonare nella cappella del Doge, al teatro San Giovanni Grisostomo, all'ospedale dei Mendicanti, ascoltava il padre e sentiva che quella musica che teneva dentro cresceva, si faceva groviglio, lo ingombrava. Antonio sentiva quella sua musica dentro, mentre suo padre, Giovanni Legrenzi, maestro di cappella, gli insegnavano a suonare il violino. Suonava e cercava di dare una melodia a quel garbuglio che il diavolo gli aveva dato per disperazione. E più cercava quell'armonia, e più quell'armonia si ritraeva. Si rifiutava ad ogni nota, ad ogni melodia. Per tutta la vita sentì quella musica che lo richiamava, che lo seduceva, non gli lasciava requie mai. Lo tormentava, gli si concedeva per un istante e poi gli si negava. Si ritenava nella profondità più oscura del pensiero. Quando Antonio nacque, sua madre fece il voto che se fosse sopravvissuto al zanno del demonio, si sarebbe consagrato al sacerdozio. Così fu. E quando venne l'età, ebbe la tonsura per mano del cardenale Badoano, patriarca di Venezia, e cominciò a studiare teologia nella chiesa di San Gimignano e quella di San Giovanni Innoleo, con quella musica maledetta che lo poi inseguitava. Suonò il violino nella basilica di San Marco, quando vennero i giorni di Natale. Suonò nel dio ospedale della Pietà, poi a Brescia, poi a Manto, alla corte del Priscile Filippo, D'Assi, a Garzma, D'Arto, su Stati, poi a Milano, Roma, Trieste, Viena, Praga. Ma ogni volta che suonava, trovava una infelicità remota, un dolore segreto, un'angoscia lancinante. Ogni musica era un'incompiuta, un corpo smembrato, una ferita che bruciava. In ogni opera mancava quella musica del diavolo. Forse una musica perfetta, l'armonia dell'universo, la musica che contempla ogni ritmo e ogni silenzio, il fuscio e il tuono, ogni overture e ogni conclusione, il principio e la fine del tempo, ogni vibrazione dell'eterno. Antonio Vivaldi sapeva che quella musica avrebbe strabiliato il mondo, ma a quella musica non poteva dare partitura. Non c'erano note, movimento, modulazione che potessero contenerla. C'erano notti. Certe notti vagava per le calli di Venezia, si accostava agli usci per percepire i sussurri. Forse quella musica non era altro che un sussurro, un piano, un vagito, pensava. Forse non era altro che un respiro nel sonno, la fanna di un vecchio, un sospiro di donna. Lui non aveva mai avuto una donna, mai conosciuto l'amore, mai, né a Venezia né altrove. Forse aveva avuto soltanto un palpito di cuore quando a manto la conobbe Anna Maddalena Tesele, che poi diventò contralto prendendo il nome d'arte di Anna Girò. Ma era ancora una bambina quando la conobbe, una bambina per la quale poteva provare una tenerezza, non un amore. Vagava per le calli di Venezia, nottetempo, forse sperando che nel silenzio il diavolo gli scegliesse nella mente quella musica con cui lo aveva ammaledetto. A Vienna, la notte tra il 27 e il 28 di luglio dell'anno 1741, nella casa affittata presso la vedova Maria Agatne Balearin, l'asma si fece più forte, più acuta, lo soffocava. La febbre cresceva, lo portava al delirio. Nel delirio vi ritornavano i motivi delle sue quattro stagioni. Li sentiva lo scorrere dei riuscelli, il latrato dei cani, il canto degli uccelli, il rosio delle zanzare, il pianto dei pastori, il fragore della tempesta, le feste di caccia, il bruciare dei fuochi, il silenzio delle notti e rivedeva i danzatori ubriachi. Poi, all'improvviso, una musica. Un'altra musica mai pensata, mai sentita, si insinuota a quelle melodie e lui la riconobbe, quella musica del suo primo giorno, quella musica del suo ultimo giorno imperiosa, leggera, magica, mirabile, superba, sublime. E lui la riconobbe. Si sollevò dal letto, madido, prese il violino, si avvicinò alla finestra, guardò fuori, Vienna, guardò Vienna nel buio e suonò, e suonò come un prodigio, una stregoneria, come se un dio o un demone gli dettasse i movimenti delle dita, suonò, suonò, mentre la febbre gli si addensava dentro gli occhi, mentre il delirio gli dava il capogiro. Pensò che fosse quella la sua musica, che tutto il resto non fosse stato niente, che non avesse avuto senso, che tutta la musica che aveva scritto prima di quella notte non avesse nessun senso. Suonò, suonò finché non cominciò ad alzarsi l'alba e all'alba quella musica si affidò lì, sbiedì, poi si fece silenzio, ritornò nella profondità da dove era venuta, nel segreto custodito dal cuore di Antonio Lucio Vivaldi. Lo trovarono quando il mattino era già alto, disteso davanti alla finestra, nella mano striscava il violino, sulle labbra aveva l'ombra di un sorriso di pace. era Antonio Vivaldi che suonava il violino divinamente e noi abbiamo con noi chi scrive divinamente. Antonio Arrigo. Intendo questa lettura, mi sono detto in un attimo, però non è il mare, ma è lui che ne intendeva, quindi, vabbè, ma questo non lo sapete, io volevo, in realtà, in misere, in realtà, in Gerardo Filizmo, che l'ha invitato, il piacere, l'onore, di venire da Paladero, di ritrovare tanti amici, io sono sentimentalmente negato alla Paladero e quando ci sono queste cose, ecco, vi sono grato. Tutto qua. Siamo, siamo grandi noi a vedere, a tutti gli amici. Siamo sentimentalmente negati a Matteo. Non sapevo che fu una veste, non sapevano. E' uno stupore. E' uno stupore. E' uno stupore. Ah, se per esempio. E' uno stupore. No, adesso scherzo, ovviamente, perché, insomma, siamo tre persone, insomma, che... Di una certa età. Eh, ah, sì, questo, no? No? Chiediamo in me la trara. Vabbè, insomma, è anche importante questo. E' insieme ad Antonio Enrico abbiamo il suo editore, Lorenzo Capone. Mi chiamo anche Federico Capone. Mi chiamo anche Federico Capone. Federico? Ah, sì, Federico, che si è accortato di lui. Stasera. Ma lui è quello che lavora. Lui è quello che lavora. Abbiamo un quartier d'eccezione, ringraziamo Spazio Aperto, ma ringraziamo soprattutto... Abbiamo fuori tre sindaci. Tre sindaci, tre sindaci, ma ringraziamo il più anziano dei sindaci che ci sta ospitando, Gerardo Filippo, poi abbiamo anche Daniele Perulli e tu ci si impungo. Giovanni Paolo, tre sindaci, grazie a tutti. Vabbè, ovviamente abbiamo anche assessori, assessori e gente, assessori di una volta, consiglieri, qua c'è tutto, insomma, c'è la cram-cram, ci dice la rincazione. Allora, adesso passo un attimo la parola a Giorgia perché sarà lei, anche se c'è il sindaco, sarà lei a dare il saluto istituzionale, visto che sta tra gli ospiti, insomma, parlando e debbano dire qualcosa. O no, voglio parlare poco bene, adesso no? Sì, dai, Buonasera a tutti e a tutte, sarò brevissima perché non voglio assolutamente rubare il tempo prezioso per ascoltare la presentazione di questo testo. d'obbligo però è un ringraziamento a questo luogo, a questo nuovo presidio culturale di cui siamo molto, molto felici e mi permetto appunto di parlare anche a nome del sindaco, del consigliere della nacelle e di tutta l'amministrazione perché avere un nuovo luogo d'incontro è importantissimo, è vitale per questo paese e siamo molto fieri di non solo, insomma, di essere presenti oggi ma di poter collaborare anche ai prossimi eventi che ci saranno in questo meraviglioso luogo. Quindi ringrazio ovviamente Gerardo ma anche la presidente dell'associazione Sone Fumarola che oggi purtroppo non ci può essere ma insomma so che il suo ruolo è fondamentale perché insomma all'interno dell'associazione lei appunto è la presidente. per entrare un attimo nel merito della presentazione volevo ringraziare ovviamente l'editore perché ogni scrittore esiste se esistono poi degli editori che pubblicano dei libri e il lavoro che fate è prezioso sappiamo che è difficilissimo e sappiamo che a volte la politica non è molto attenta a questo mestiere ma ma è veramente un mestiere molto nobile è un mestiere di ascolto è un mestiere di intuito e per questo vi siamo molto molto grati poi ovviamente salutiamo l'ospite Antonio Enrico che io non ho avuto la fortuna di avere un dirigente scolastico perché ero già fuori di cui però conosciamo tante leggende appunto e quindi siamo felici oggi di condividere questo momento di incontro anche perché nel libro insomma che ho avuto la possibilità di acquistare qualche giorno qualche giorno fa si nota secondo me anche questa attitudine che è un'attitudine di educazione e di formazione importantissima proprio perché tutti noi siamo cresciuti con delle leggende chiunque adesso è una la leggenda diciamo se ne sentono poche di leggende attuali e quindi fare un libro sulle leggende italiane secondo me anche è stata appunto un'attività di grandissima visione e per questo siamo veramente molto grati non entro all'interno appunto del testo di cui poi sicuramente ci parleranno meglio gli ospiti però volevo fare un altro apprezzamento particolare ovvero quello nei confronti di Massimo Pasca della copertina Massimo Pasca è un grandissimo illustratore locale ma in realtà noto a livello internazionale e credo che questa copertina rappresenti benissimo poi l'interno del libro e le parole che il professore Enrico espone in maniera eccellente mi taccio lo rubo veramente altro tempo e non vediamo l'ora di ascoltarvi grazie mille hai fatto bene mi hai anticipato perché io volevo soffermarmi un attimo anche sulla copertina essendo anche amico di Massimo figlio di Francesco grande poeta grande scrittore insomma e quindi 360 gradi è vero Francesco poi ogni giorno pubblica Francesco in modo eccezionale e Massimo segue le orbe e lo supera per certi versi insomma allora abbiamo ospite Antonio Enrico insomma Antonio Enrico ha fama di narratore e poeta ed è conosciuto da tutti in ambito culturale scolastico per lui non bastano poche parole di presentazione ma troppe sarebbero eccessive per un maestro della parola come lui Antonio Enrico è un eccellente educatore di armonia ogni verso dei suoi scritti sembra composto sul pentagramma musicale abbiamo ascoltato prima la lettura su Antonio Vivaldi insomma diciamo non è che si discosti molto non mi suonava bene il violino e Antonio Enrico fa musica con la sua scritta ogni verso diciamo come se fosse scritto sul pentagramma musicale di questo io ne ho personalmente condizione avendo avuto più volte l'occasione grazie sempre a Antonio di leggere pubblicamente le sue opere lui scrive con uno stile ormai riconoscibile in cui si sente tutta la sua vocazione per la scrittura pensare di leggere i suoi libri come semplice passatempo la stregua diciamo di tanti di non dire di tanti altri significa insomma peccare di genità insomma leggere un libro di Antonio Enrico vuol dire essere entrare nel profondo delle cose delle situazioni la sua è una scrittura armoniosa e nello stesso tempo potente che aiuta ad aprire immensi portoni sulla vita capace di far entrare il lettore in empatia con i personaggi delle sue storie io mi sono preso gli appunti perché se no tante cose ma per conoscere assolutamente ecco l'assistenza della polizia ma per conoscere ancora meglio il nostro ospite forse può bastare l'ascolto di questo se un acimo d'uva si ingoia in una sola volta il sapore dell'uva non si può sentire l'acimo si deve assaporare lentamente lasciare che si sciolga lentamente che il succo si impasti nella bocca che arrivi fino al sangue la stessa cosa vale per la conoscenza perché sia conoscenza sostanziale c'è bisogno che le cose penetrino lentamente nel pensiero che si infiltrino nel tessuto delle condizioni che si trasformino in espressioni di cui si serve l'esistenza che riescono a farsi in se stesse espressioni di un'esistenza la conoscenza ha bisogno di una sapiente lentezza per poterne sentire il sapore questo è l'incipit di un suo intervento di qualche anno fa sulla rivista scuola e amministrazione dal titolo il sapore del sapere sono parole del suo di un'esistenza ah no? se la si interviene è come scrive Gustavo non leggete come fanno i bambini solo per divertirli o come fanno gli ambiziosi per istruirli no leggete per vivere quindi il mio invito anche da da ex o da bibliotecario ancora in percorso in servizio si chiama e vi invito a leggere davvero stasera prima di uscire prendete il libro di Antonio Rico ve lo fate filmare e poi leggete veramente è fantastico ma veniamo proprio a questo libro leggende italiane leggende italiane diciamo già dal titolo è intrigante anche perché poi mi ha fatto lavorare un po' Antonio sono andato piano piano a cercare di trovare notizie su tutti i personaggi su tutte tutte le leggende che lui ha messo su è veramente ha girato un po' l'Italia magari si è tornato un po' troppo al nord manca qualcosa con che su per esempio hai sempre toccato questo sì in altre occasioni però erano c'erano storie che io magari avevo sentito ma altre storie non le conoscevo come i media anche le leggende insomma popolari sono storie molto antiche e fanno parte del nostro patrimonio culturale ma del patrimonio culturale di tutte le società appartengono alla tradizione soprattutto alla tradizione orale quella che si tramanda da bocca in bocca non sono state inventate da una persona sola ma si sono costruite passando da una rotola all'altra finché poi non ha assunto questa proprio questa forma di leggenda che è giunta ai nostri giorni le leggende sappiamo che sono delle storie popolari di eventi anche sopranaturali che si immergono proprio in un vero quadro storico che sono trasmessi attraverso la parola oppure sono scritti attraverso generazione di solito si riferisce direttamente all'abitudine e alle tradizioni di una particolare comunità pertanto c'è un certo carattere di verità nel suo contenuto le leggende di solito imputano storie fantastiche che so apparizioni di divinità fantasmi esseri mitologici e contengono anche elementi di fede soprattutto o di spiegazioni di fenomeni naturali però ancora nessuno almeno da quanto io ho cominciato a capire nessuno sa perché comincia la leggenda oppure quale leggenda sia stata e adesso prima di passare all'editore io voglio dire soltanto una cosa io da bambino ascoltavo le storie che narrava mia madre mia madre ora ha 97 anni sarà 98 fra un mese non esce più da casa ovviamente insomma non può e mi rimase impresse questa cosa qua diceva spesso questo verso nel raccontare la storia che non la ricordo la storia ma ricordo questa frase l'ho scritta qua maga dei nani maga dei nani mostrami il viso mostrami le mani mentre pronunciavo questa frase io e i miei fratelli tremavamo di porca quindi adesso io passo la parola all'editore Capone poi magari continueremo su questa falsa riga sonora un successo è inutile che lo sottolinei perché sembrerebbe anche meglio la casiera in verità ha una bellissima parentesi quando fu presentato al fondo per il di un con il del genere di Puglia ci fu una superficialità da parte del non voluta ovviamente la parte del presentatore che poi era una persona colta il giudice cosentino noto per e disse che l'autore non si deve interessare degli aspetti economici della sua comunicazione non è così se non se ne ricorda l'autore se ne deve se ne deve ricordare il gioco forza l'editore perché l'editore intanto può pubblicare anche il secondo e il terzo volume di un autore nel caso di un autore se che ha successo noi siamo lo dico con molto orgoglio molto moltissimo orgoglio siamo gli unici editori che hanno ottimi rapporti con tutti gli autori anche e soprattutto perché questo tema sottolineato per l'orgoglio che ho io e che alla mia casa gli autori non devono mai sostenere la loro opera nel momento in cui desiderano pubblicare fa parte dell'editore intuire pubblicare e ovviamente questo è un aspetto importante vendere ma un prodotto intanto perché il libro ricordiamo che accanto agli aspetti culturali poi di fatto è un prodotto e se il prodotto va bene funziona qualsiasi tipo di attività perché la casa di Pini è un'azienda noi siamo una piccola casa di Pini presente per moltissimo sul territorio non sono salentino che punta molto ad un buon prodotto da offrire ai lettori fino a questo momento ci siamo riusciti con il libro di Antonio già si vedono dai primi dai primi risultati questo obiettivo l'abbiamo raggiunto io dico che l'editore non è solo colui che deve fare i conti e basta deve avere un certo intuito anche per sostenere chi ha intelligenza preparazione cultura non si mi spiega e quando gli autori sono espressioni di un territorio tanto di guadagnato torna utile non solo a chi fa questo tipo di attività ma anche a tutte le persone che sul territorio ci vivono io non voglio intrattenermi di più perché non devo discutere io del libro io il libro l'ho visto qua e là l'ho letto come faccio con tutte le popolizzazioni che escono sarebbero cogenti messi in questa direzione quindi saltego come le farfalle la saggistica storica siamo lì alle tradizioni popolari alle applicazioni fantastiche di di seguito però poi alla fine dobbiamo tirare i conti fino a questo momento grazie a tutti gli autori che hanno lavorato con noi che hanno collaborato con noi siamo una realtà significativa dell'Italia religiosa in tutta l'Italia religiosa abbiamo una presenza quasi insignificante a partire da Roma e insomma però posso dirvi che nell'Italia regionale abbiamo pochissimi concorrenti e quando parlo di Italia regionale significa di milioni di persone che guardano anche con attenzione a cosa attività che facciamo noi io non devo aggiungere altro applausi lo teniamo ben stretto sta funzionando medio ora che è rotto no questo è un problema che ha il disastro c'è poco rimedio guarda c'è non c'è c'è rimedio meglio lo so no io ripeto un attimo il microfono perché in pratica mi sono riscordato di dire una cosa molto importante il fatto che Aradeo ha una stima immensa per Antonio Enrico un po' perché sì no ma i tuoi insegnanti no ma in Spagna mai ho parlato male io non l'ho sentita mai sì mi ha 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 tutti stanno tutte in classe stasera quelle che non ti hanno voluto bene stiamo scherzando stiamo scherzando ovviamente però un pochino una cosa sono passati 9 più 8 quanto pare allora io mi trovavo a Lecce vicino dove c'era al Cesare fascista beh io c'erano delle signore io sono passato tra il direttore nostro e una volta qualche anno fa questa stima si tramotò in un premio Antonio Enrico è stato premiato nell'ambito dell'iniziativa di Popoli del Mediterraneo il Festival Internazionale dei Popoli credo sia stato Dulzio dopo il periodo è stato assegnato Antonio Enrico il premio Festival Internazionale dei Popoli con questa motivazione per le sue opere letterali i suoi racconti che narrano del Salento e del Mediterraneo come ruovi dell'anima il suo lavoro di dirigente scolastico sempre a contatto con le nuove generazioni io ricordo quella sera quando fosti premiato te ne andaste a casa con un bel premio pesantissimo tutta la nostra stima e magari dicendo spieghiamo la stima quella rosa del deserto bellissima la rosa del deserto portato dagli arabi di quelle per i musicisti di quei ragazzi avevamo commissionata dall'Africa un po' più vicino pensiamo a due passi insomma siamo in Mediterraneo tu parli tanto di Mediterraneo sempre di cui si riusci a volte purtroppo divide però allora guarda io ti posso fare qualche domanda intanto hai scritto queste queste leggende italiane si è andato così e spugliare un pochettino non spugliare diciamo la curiosità fa parte anche dello scrittore insomma adesso devi andare a curiosare dopo ma ci sono credo 29 o 30 29 sicure letture da fare questo libro da leggere si legge benissimo perché ci sono argomenti tutti diversi ma tutti appassionati e quindi si è andato così a provare a cercare ma io volevo capire nella tua infanzia quali libri leggesti? ah bella domanda allora mentre i miei mi entravano in casa io avevo 7-8 anni mi nascosti in un angolo dietro un mobile e mi lesi tutta una giornata la feccia nera e mi lega la feccia e perché c'è tutta una giornata io ho letto moltissimo Max Wheeler che tutto per poco dietro lo imparato dai commenti in pratica e ho letto alla sede della terza media ho letto durante l'estate tutto Cesare Paese dopo quella volta io gli sarei Paese non ho mai tutto di letto ma perché perché Paese per esempio o lo legge a quell'età fino a 15-17 anni oppure non legge ne più perché ti fa nobbra ti fa nobbra io ho letto scopi in quell'estate anche quel po' l'istifizio di Giovanni Tegabini e Adda Adda esatto esatto ecco ma sì ho letto purtroppo una cosa che mi rammatica da tempo non le letgo più mi piacere di leggere letgo perché devo leggere qualcosa per forza di questo per forza di quest'altro diciamo una lettura per lavoro se Dio vuole un giorno vorrei riprendere la leggere per me mi piace quindi hai risposto anche alla domanda successiva quali autori l'hanno trovata maggiormente insomma molti stranieri moltissimo di italiani Joyce Stefano Berligo persone che ho amato come Vincenzo Consolo io non mi sarei mai aspettato cioè io ho avuto cermi di nella mia vita uno Vincenzo Monzo l'altro Roberto Ricconi l'altro Luigi Maneba ho avuto la fortuna immensa di diventare amico di queste tre miglie sempre trentoli come vincenzo Monzo stavamo a Roma io avevo quando usci la sigla di Vincenzo Monzo in Italia a dieci perciò io lo lessi in una notte sull'altana di Fondone perché montavo di guardia militare per l'anno di militare lo lessi in una notte stavamo a Roma e Antonio Verde mi dice quello di Centro Consolo ma che dice ma dove sta Centro Consolo io mi immaginavo un Centro Consolo gigantesco ma quello chi mi mostra un momento mi faceva la fila con in mano un piattino di pasta per prendere la torta e la non può essere che non può essere un ti ricordo che poi i mici sono uomini spedono da parico con l'ultima erba quindi molti italiani e pochi stranieri forse purtroppo mia figlia legge tutti cristiani e poi l'altra c'è la presenza scusate scusate la telefonia non posso spegnere perché se lo spegno mi chiede por il pin ma ma io ma io l'ho salvato sul telemono ma che spegno come faccio a leggerlo e se si 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 e e non lo so allora va bene questa domanda qual è la parte migliore e qual è la parte peggiore di un scrittore di un scrittore è la parte migliore che non riesco a dire espondo con l'intima dema in un romanzo bellissimo che si chiama il fuoco pego un romanzo che ha un po' e allora a un certo punto c'è un personaggio che gli chiama l'altro tu sei un scrittore io non so se un scrittore è al Dio o un uomo per rispondere alla dichiaria non che parte alla domanda io dico una cosa che non bisogna considerare la scrittura cioè l'esito di un processo che fa un uomo lo bisogna associarla all'uomo caravaggio caravaggio non è il treno uno che era un problema le persone un pericolente particolare particolare però è uno con una capacità di creare la luce che tu stai che vai a saluti dei francesi e la bomba la bomba questa conversione e stai con un scemo un dolore così a guardare che stagge che dice ma non può essere dipinto è serena cioè quindi non so quale sia forse c'è una parte uno scrittore è uno che cerca di capire gli altri che si sposta dal cerchetto degli altri quando lo scrittore Enrico scrive pensa a quale pubblico utilizzare la sua scrittura sì a me no non c'è un pubblico forse ci sono delle persone persone che mi attrattengono alle quali poi bisogna se gli scrivi a un conto se scrivi un altro se scrivi di un personaggio contiene di parti tolpato tasso tu devi essere per il personaggio per il tempo in cui lo scrivi io mi riporto il cancer no è quello più forte per me è stato entrare e essere se direi così come di sveglia per il tempo in cui scrive un altro io sono sono stato che il tempo c'è andata dalle ottenimento di sera alle 12 e mezzo perché poi dovrei andare a lavorare ma in mattina dovevo smettere fai l'iteratore perché è depressa che si deve andare a mare ecco e io sono stato sono stato quel buono sono stato quel buono lo sai dico e qualche altro amico del periodo perché andavamo in giro a leggere chi è chiedevano ma si sta parlando di per cui si vedessi mani tanto e ero ero lui e ogni fa non ho uscito una persona perché gli spiati non mi sto ricordo di nuovo è un altro scritto un romanzo su Federico VII con Mondatori stavamo parlando è un'altra personale di Antonio Enrico questa non è il quale ma mi dice per caso lei ha scritto un romanzo che si chiama così si mamma mia mi sono detto non si può scrivere nulla sulla caccia dopo quel romanzo ma io non sono mai andato a far caccia mai io posso fare un altro sì lo ho fatto non lo sapevo no sai che ho fatto milioni di domande ho subito per ragioni diverse però questa storia che tu hai letto molto ti ha affascinato Luigi Malerba e quindi hai citato un po' greco ma lo sai che in questo momento mi viene un'idea c'è un accoppiamento con quello che hai scritto di sopra con i tanti fatti e spiega anche lui parte da quella che è la situazione spesso la sublime porta sempre per dirla da intellettuale di quello che avviene nel mondo della sublime porta e tira fuori questo bellissimo romanzo perché io ho letto forse 30 anni fa forse qualcosa di più tu parti da fatti storici per tirare fuori tutti questi racconti tutte queste leggende perché la cosa che mi è rimasta impressa per esempio è la storia che tu racconti di sopra e la mia dava e la os perché tiri fuori poi tutte le famiglie patrizie del mondo napoletano napoletano quando dico mondo napoletano mi riferisco voglio dire perché parli di canapa parli di che suante il famoso musicista proprio dire della basilica parli di questo di appalosso che sono quei stranieri che si 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 racconti tutta questa storia d'amore allora ha fatto storico a tirare fuori come questi racconti io ho cercato un metodo diciamo così che cosa ho visto ho visto quelle zone d'ombra che la storia non si veda c'è la storia che è tutto molto scherza che si sono fatti se ci sia dietro se ci sia tutti non lo sa la storia quasi tutti sono personaggi storici o situazioni storiche io ho cercato di iniziare in quella area di rigore che la storia non spiega a proposito del terremoto a Venezia di cui le voci dicono che nel 1600 non ne ricordo quanto ci sia stato il terremoto a Venezia ma non è registrato dagli altri è vero o non è vero non lo so la battaglia di Lantordino si cede che ci siano state che vengono i fantasmi dei di una battaglia si di una battaglia quindi allora mi sono mostro quando è che si racconta adesso lo diceva anche un po' meglio Alessandro Canzone quando è che si racconta quando la storia non sa spiegare i fatti i secondi dell'esercito allora interviene l'inversione l'interviene l'inversione abbiamo una domanda facile? si c'è sempre tutte le cose c'è un inizio e c'è una fine allora diciamo che cosa significa significava per te iniziare a scrivere e che cosa significa continuare a scrivere e non lo so dall'inizio fino adesso non è la fine diciamo ci sarà la fine per cent'anni sicuramente per tutti ma che cosa è rimasto dai tuoi inizi fino ad oggi e che cosa come dire hai guadagnato non dal punto di vista economico di quanti però non lo posso dire perché non hai identità che cosa ti ha dato la scrittura che cosa ti dà ancora guarda io fino allora io non riesco a pensarmi senza stare in una scuola e senza scrivere da un po' di tempo riesco anche a pensarmi senza stare in una scuola e cioè perché negli ultimi tempi la cosa è diventata covid tutto il lavoro fatto con la pandemia noi abbiamo fatto un altro mestiere di nonno siamo fumati di pandemia adesso ci occupiamo di PNRR cioè riesco anche a pensarmi certe mattine a dire ma stamattina non mi era mai successo che mi dicessi che questa mattina non tanto mi sta andando no adesso in qualche modo mi succede senza scrivere non riesco a pensarmi non riesco a pensarmi e per me esattamente come era 40 anni 50 anni fa 50 anni fa è esattamente la stessa cosa io ho cominciato a scrivere professionalmente quando facciamo anche a sperimentare perché perché all'epoca di Fatemi voi si scrivevano i pensierini che adesso per fortuna non ci fanno più però io ho molta una volta fecchi un compito che non era il buono era l'unico due o tre pagine e allora venne fuori l'Antonio fa scrivere perché avevo fatto due o tre pagine e da quel momento io dovessi scrivere per dovere perché sapevo scrivere l'avete fatto in terza e metà allora come un anno del magistrale io feci 4 ore di compito per gli altri 4 otteni tutti diversi su 4 tasse mi smacciamo che ma noi mi smacciamo ecco e però ho un metodo ho un metodo per me la televisione non esiste alle 8 e mezzo finisci la televisione non è il telegiornale 8 e mezzo 12 e mezzo di sera prima facciamo anche le due adesso io scrivo siccome sono anche veloce mi faccio due tratteggi al giorno una tratteggi di valia 1800 battute mi mantengo una collaborazione di due pezzi al vettimano quotidiano di sfoggi al vettimano più queste queste cose però con sistematicità 8 e 30 20 e 30 12 e 30 una prima fai a leggere qualche di voi poi ho conosciuto diciamo questione di cultura veramente importante non so prima Donante il salvatore Toma ma anche io ho conosciuto Antonio Verdi in altri ambiti però vorrei che tu ne parlassi un po' di Antonio Verdi di Rina Donante con le tue parole che tu hai avuto la possibilità di formare un'equipe con queste personalità della cultura guardate noi parliamo del salento pensiamo di salento non come ma lo pensiamo consapevolmente o impossatevolmente nel modo in cui Bodini Pagano Gomi di Rina di Rina Donante Antonio Verdi Vittorio Fiori Salvatore ma lo hanno inventato crea cioè il salento come onzi anche turisticamente non sarebbe come se non ci fossero state queste persone hanno creato si dice il prendo no hanno creato un'immagine hanno anzi ho sbagliato scusate hanno creato un'immaginario al quale la realtà si conforma tutta la storia della fisica lascia da dire non la fisica ma voglio dire il marketing posso mi viene a dire queste parole il marketing viene da lì un lavoro molto importante l'ha fatto il fondo del rito di promozione di custodia di certe cose erano sono state persone personaggi leggendari leggendari di una inquagenza incredibile salone doma era poeta punta puro marie bosco e Antonio Verri era un bambino di una intelligenza e sensibilità straordinaria quando l'acqua i miei figli era grande era di sedia agosto 200 giorni dopo lei venne a fare libri e dovevano portare qualcosa per cui all'ecce di pochino di agosto mi comprò una vaschetta di gelato dal bar diceva cosa mia in piazza poi si rese conto che l'acqua era aperto e si mise sulla panchina ad aspettare il pochino quindi immaginatevi che la vaschetta di gelato come si sente e rinaturante però però una cosa non la dobbiamo dire per tutto quello che mi hanno detto la scuola di radio ha fatto un lavoro di proposta ai bambini straordinaria perdonate se lo dico facendo le antologie di poeti e narratori salentini che dà un omaggio alle famiglie io poi mi lavoravo venendo alla provincia venendo alle altre scuole e comunque i risolvi pagavo le altre pubblicazioni non mi ricordo se la prima l'ho mai pagata comunque non so niente e i soldi sono stati usati in questi testi come tesi di laurea ad arateo e a proposito di non questo di biblioteca che chiedevano andate i testi andate i testi un attimo questo è una cosetta un lavoro straordinario perché fondato scientificamente e per l'ultimo di le tante salentini formato un altro curatissimo un lavoro filologico di proposta seria diventato un punto di riferimento per gli studi sulla chiappa sulla chiappa sulla chiappa e sulla chiappa si 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 ecco di questo devo dire sono sono orgoglioso e adesso queste persone che dicevi tu forse il mio rizzo il mio opinione non può essere molto molto attendibile perché sono stati compagni di stato sono stati sapenti sono stati sorelle per questo di chiedervi non dobbiamo appunto conoscere anche meglio perché è bene che si conoscono le persone però le invenzioni di giornate qui per dieci giorni uscì una cosa incredibile un quotidiano dei poeti per dieci giorni che veniva poi distribuito contemporaneamente a Roma tanto che Aldobello e anche Aldobello e anche Aldovinzato al lato che adesso non ho diciamo perché in quattro tippe di capitale perché i giorni sono particolarmente alla libreria bravissima c'è una cosa mai successa in Europa quotidiana cioè noi lavoravamo di notte in una demografia di maglie dove adesso c'è un super mercato uscendo una maglia di fonte al bar diceva Scorossi al bar Ropsi Bar di fonte adesso c'è un super mercato là c'era una demografia giusto? noi lavoravamo in generografia la notte per uscire alle 5 di mattino un testo quotidiano di poeta una cosa da mazza c'era una cosa da riportare tutti i giorni che ci torni togliamo di ragazze a queste persone poi ci siamo una buona qua che sta ordinando dai gruppi di come gli altri di assagare di amici da questi che? ah no io ci teniamo insomma che ho conosciuto Verdi una volta non lo conosce non sapevo che fosse lui a Cursi in una riunione andai con proprio qualche anno dopo che era la moglie i misteriari ripresento uno che sicuramente forse vorrei conoscere ed era lei lavorava con un giornale dove scriveva stavamo in un supermercato a Lecce mi aveva così tosse guardare guardare cioè aveva questa faccia stranata l'occhio stranico l'occhio sì in quel momento ma dopo mi sono venuto in mente tanti altri ricordi per cui rimane in mente quella figura di poi dopo ho letto tanto questo è fantastico poi ho letto pure non c'era che scrive lui racconta la sua morte praticamente ma lo in giorni in generale e come direi come devo dire la memoria di attunzarei è quello che è vissuto vive per per far vivere anche questo se allora racconto una cosa che io ragazzi non un giorno proprio con Maurizio che era stavamo in casetti dice stavo aprendo delle carte che servivano di ci si trattava di intercambi nel momento in cui stavamo intercambi queste carte esce fuori una delle tante copie che inizi generalmente faceva registrare per legate alle ascensioni dei periodi anche in Italia e una di queste era di Antonio Verdi cioè Antonio Verdi ha collaborato con la casa di l'unico che conserva è il caso di libro la memoria di questo è Maurizio che era si Maurizio poi sai che conserva come se fosse un eserro io ho un mio figlio che era io ho scoperto e ragazzi di ottenere tutti diversi quando andarono a intervistare eseguire Leandro si allora lo sapevo che si stessi che voglio essere un museo no e poi l'altra figura che dice il guardo di canna il personaggio non il guardo di canna c'è l'ultima l'ultima poi ci saranno insomma io ho un impiegno per luna una volta domandare chiesero a gianni rodali tu fai giornalista quando smetterai di lavorare che mestiere vorresti fare e lui rispose fammi crescere la barba bianca e se non sarà bianca la dingerò voglio fare il burattinale Antonio Enrico ti vorrà fare da grande vorrei portarmi 10 e 15 d'Italia il il pastore mi siamo registrati eh anche in diretta adesso e allora no vorrei fare alle banchie della piazza e il biffine che ti vada ma perché mi annoia lei negli ultimi tempi scherzando una persona mi ha detto ma si fa giù ho detto vorrei fare il regista che ha giù ma non so farlo allora oppure vorrei fare quello che ho sempre fatto di queste due se si smette di stare in servizio ma non di lavorare sono dei vostri terzi c'è un'esperienza è un'esperienza è un'esperienza che mi sono fatta è il nome non aspetti mai di parlare no vabbè vittorio tecnologico che ci fu tutta la storia sul fatto che non si sapeva se Federico II fosse davvero morto o meno se ci fosse che avesse preso le sembianze di un'indicante direi 20 o 30 secondi ma lui non è lui vabbè vittimo raccontò il cronista Tommaso di Eccleston che nella stessa ora in cui Federico il feratore rendeva l'anima a Dio lui era incinocchiato in preghiera sulla riva nel punto in cui il pendio del buon gibello del grande Etna scende scosceso verso il mare dal quale la montagna emerse nella notte dei tempi raccontò Tommaso di Eccleston che un rumore tremendo lo distolse dalle sue meditazioni e vive un interminabile porteo di cavalieri armati che si immergevano nel mare al loro passaggio l'acqua si ribellava e schiumava come se i sei cavalieri fossero avvolti di metallo incandescente raccontò Tommaso di Eccleston di aver chiesto ragione di quel che accadeva a uno di quei cavalieri che con l'isopalbido immobile gli rispose che accompagnava Federico Imperatore nelle viscere dell'Etna dove avrebbe preso timora e dalla quale timora sarebbe il giorno ritornato per liberare il suo regno dagli usurpatori e la terra da tutte le giustizie da ogni malvagità Federico morì il tredicesimo giorno dell'ultimo mese dell'anno 1250 molte furono le voci che corsero per il regno dopo la sua morte molte furono anche se non tante quante le corsero durante la sua vita per dire bene di lui e per dire male a volte confondendo i bene e i male fin dal giorno in cui era nato cominciarono a correre le voci fin dal giorno di Santo Stefano del 1194 quando Costanza d'Altarilla partorì in una tenda sulla piazza del mercato di Iesi ci fu chi sostenne che il padre fosse un beccaglio di Iesi altri ancora che fosse stato scambiato con il figlio di un mugnaio qualcuno disse che fosse nato da una relazione clandestina con Frappa Civico uno dei compagni più stretti di Francesco D'Assini che prima di convertirsi si chiamava Guglielmo Divini ed era giovane e bello e abito e rimatore dicono alcune fonti che Guglielmo Divini svolse la funzione di cavali e serventi di Costanza secondo lo storico di Montesampietangeri essendo Federico secondo nato in dicembre con molta probabilità fu concepito nel mese di marzo quando Enrico VI si trovava in Germania e Costanza a Spoleto in compagnia delle sue dame e del suo cavaliere servente e in quel tempo la signora avrebbe amato Costanza fu Federico ancora ragazzo a proclamare Guglielmo Divini suo maestro e re dei persi molto si disse dunque dello stupor mondi del guerra puglie mentre che disse molto si disse quando morì gli aveva detto una morte su flore Michele Scoto l'astrologo di Porto per questo Federico aveva cercato di evitare Firenze che contiene nel nome il senso e l'immagine del fiore ma poi dopo una battuta di caccia per quella malattia dell'intestino che aveva ucciso suo padre lo avevano portato a Castello il vaticino diceva che la sua morte sarebbe avvenuta di fronte a mura di ferro non appena fosse giunto in un luogo con l'uomo di un fiore quando si accorse che accanto al suo letto una porta era stata murata con battenti di ferro capì che il suo destino stava andando come era previsto per la vaticina raccontò Giovanni Lidani della sua cronica che fu Manfredi desideroso di avere il tesoro di suo padre e la signoria del regno e la sicilia a soffocare il carattore con la complicità del suo ciamagliato quando Federico morì Manfredi scrisse al fratellastro Corrado tramontato è il sole del mondo che illuminava le gente tramontato è il sole della giustizia tramontato è il fondatore della pace poi aggiungerà ma anche se quell'astro è tramontato i suoi ordinamenti gli assicurano continuità e nuova vita in voi nessuno crede che il padre sia assente perché si spera che nel figlio viva Innocenzo IV annunciò la morte di Federico con questo il cielo giubili e la terra faccia festa il fulmine e la bufera con cui l'Onnipotente così a lungo vi ha minacciato si sono trasformati attraverso la morte di quest'uomo in zeffiri ristoratori e rugiata a peposta molte voci corsero per il reno quando Federico morì e tra le voci la fonte è quella della Sibilla quella profezia che diceva di et non di aveva detto la Sibilla che gli avrebbe chiuso gli occhi in una morte segreta ma avrebbe continuato a vivere aveva detto che tra i popoli sarebbe scoppiato un cuore vivi et non vivi perché uno tra i giovani e tra i giovani e i giovani avrebbe continuato la sua opera così aveva profetizzato la Sibilla riferì fra Salimbene che dopo la morte dell'imperatore si trovò un'eremita che gli somigliava straordinariamente e conosceva punto per punto le cose del regno dell'impero della Corte allora alcuni principi e baroni di Puglia correndo invadere e occupare il regno tolsero l'uomo dal ruomitaggio e spassero la voce che l'imperatore viveva ancora l'eremita si prestava a questo intrigo sperando di acquistarne ricchezze e onori ma per ordine di Manfredi l'eremita fu arrestato torturato e mandato a morte molte voci si spassero nel regno quando Federico morì molte voci per molti anni quasi che a cui l'uomo aspettasse il destino di stupire il mondo anche soltanto con il nome che portava grazie 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 per fare una domanda ma io io per fare una domanda devo assoluto dire che sono veramente felice per sapere che sei stato tre fondoni di questo di questi incontri per la presenza di Antonio e di Lorenzo in particolare la presenza di Antonio ha un un sapore diverso per noi di Aradeo e anche se competire anche da un punto di vista personale per me perché gli anni nei quali sono erano da un'altra di la scuola e io facevo il sindone sono state diverse occasioni di incontri di collaborazioni ma sono felice perché veramente Antonio è uno dei classi della cultura della staventina personaggi veramente straordinari abbiamo sentito questo capito l'ho detto da lì chiedere su il preverico su comuni io devo confessare che ho sempre appostato di mano tale da poterlo prendere senza dovermi alzare dalla disperfania del mio piccolo studio di casa del libro di il secondo di la caccia perché nei momenti particolari nei momenti quando si è alla ricerca di qualche cosa quando non si sta riuscendo di fare una qualche cosa io prendo e leggo qualche pagina io testamarti io testamarti perché bisogna musica sì ma è anche diciamo l'impegno a dover fare qualche cosa nel momento in cui non si sta riuscendo di fare una cosa quelle pagine mi danno quella carica in più ma io voglio dire un'altra cosa questa sera io sono un lettore domenicale di Antonio con le storie visuali tutto di piano vi leggo sempre a proposito di questo libro dell'appuntamento di questa sera mi sono ricordato di un tuo articolo di qualche di qualche mese fa che sono andato a direggere e che credo possa essere messo per certi aspetti in relazione con questo tuo lavoro ed è un articolo dove tu parlavi della dell'inciviltà del rumore e dell'importanza del sede viviamo in questo periodo il rumore assortante e tu lo descrivi in una maniera veramente molto molto bella il caso immobbante il rispito immotivato l'espressione scomposta la pervosità prepotente hanno mortificato la comunicazione il mettere in comune in comunione il pensiero e le storie quindi il momento di inciviltà di questo rumore come il ronzio di uno sciapetati amplificato e ossessionante come l'abbaglio rinavuta di cani appamati un rumore che proviene da ogni direzione in forma di trasformo rintuono rintuono stridore chiasco fracasco cazzara cagnara pantò pantò e poi reclami ovviamente in questa posizione al rumore l'importanza del silenzio che il silenzio che non significa non parlare non significa anzi al contrario del silenzio che è una cosa così in espressione molto bella è come un urgente bisogno di una pedagogia del silenzio cioè il silenzio che significa meditare e poi parlare e poi scrivere il silenzio che è scrivere mi viene in mente anche Baricco quando dice che scrivere è una forma sofisticata di silenzio per certi persone le leggende in un certo qualun'uno il tramandare le storie che diventano leggende attraverso questa forma di silenzio quando le leggende venivano tramandate quasi in punta di piedi senza fare rumore erano i nonni che le tramandavano ai figli ai nipoti soprattutto e tutte le volte che le tramandavano da generazione in generazione magari cambiavano qualche cosa tanto che oggi alla fine diceva è vero o non è vero non si sa non ha importanza è la leggenda beh allora come si cioè io ho colto questa cosa vorrei che tu dicessi qualcosa in me cioè questo mettere in rapporto le leggende con la necessità del silenzio in un momento in cui si vive nel rumore nel trasformo sotto tutti i punti di vista della società ma anche nella gestione della cosa pubblica c'è il prevalere del rumore assordante attraverso i social attraverso quando poi tutto questo fa venire meno la meditazione e poi anche la traduzione delle cose che in un altro articolo dice che pochi giorni fa il fatto che non si raccontano più le storie di una volta che hanno hanno dipinto e hanno raccontato il salento per diventare anche un momento di matri ma lo hanno raccontato oggi non si è detto e cosa raccontiamo oggi? chiedermi un articolo certo io ringrazio Gerardo ovviamente per essere qua per ringrazio quello che ha detto pone una questione scusate non posso rispondere una volta quando io ho finito i primi cellulari nel banchiere telefonarlo con leggiando il cellulare poi parlo quando ho finito di parlare i banchieri gli chiede lei aveva una curiosità come faceva a bussare le feste e quale allora grazie tu vai conto un aspetto di filosofia estrema di silenzio è il del rumore noi viviamo nel rumore non soltanto nel fatto che tu vai in una pizzeria ma non riesci a parlare con una persona con sui stai perché c'è la musica alta no ma le rumore di titoli della città che fa un rumore perché molto spesso è un secondo me della cosa studiata non facciamo capire se noi viviamo in politica la persona che ci ascolta non ha la possibilità di fermarsi a riflettere e capire ma lo rimbambiamo e si lega il silenzio ma la comprensione delle cose avviene nel silenzio nella riflessione dopo aver riflettuto dopo aver si dice che cosa si è compresa e si confronta con quello che è un'altra comprensione che è compresa una cosa di diverso da terza dal confronto delle due comprensioni viene la terza cosa che forse non so se è più la più giusta ma quella che mette insieme la mia è la tua pedagogia del silenzio qua c'è un pochino di botta nella scuola la scuola non ha più il silenzio ma dalla scuola dell'infanzia musica all'istituto superiore all'università eccetera si fa soltanto casino lo si fa in modo non gestionato cioè sbrigiamoci esci tu entro io faccia ma quando è che ci serviamo a dire altri termini ragioniamo su questo mettiamo insieme le nostre ragioni mettiamo insieme le nostre questioni i tempi sono questi allora non credo che si possa fare niente dovremo riscoprire forse una cosa che non è più scopribile la dimensione della famiglia ma non so se è più scopribile la dimensione della famiglia giustamente dicevi quando è che si racconta la leggenda la leggenda nasce nel silenzio vicino a fuoco sul limitare nelle case nelle nuove sera e l'estate quando la calura sale dentro non ti puoi andare a mettere su un materasso perché sta prendendo fuoco cioè è lì che nasce la leggenda e si racconta la leggenda adesso non c'è più nel terreno si chiamano anche superate metropolitana e parlano di rumore non di storia barra storia non so che possiamo farci io spero nella noia delle nuove generazioni che sono già hanno compiuto già un'opera di devastazione irreparabile il rumore della comunicazione adesso siamo tutti editorialisti sui soldi allora tutti diciamo spariamo comunque di tutti le libertà sono la cosa per la quale le persone muoiono sono bellissime sono dolorose le libertà ma ci vorrebbe una capacità di gestione della propria e della giurità che noi non abbiamo noi non abbiamo allora adesso però quello quello che fai aiuta poi quello che fai allora se tu mi dici no io ogni tanto mettendo Federico non è altro che un farvi dire forse non sono completamente inutile nella vita tutto qua certo ci sono quelli che dicono io li io io sono poveri inusi che scrivono per i posteri io scrivo per gli antenati cioè perché al mio padre e al padre di mio padre devo dare giustificazione nel mio essere qui e se faccio il lato voglio dire forse mi spiacerebbe mi spiaccherà a mio padre se non faccio il lato forse mio padre sarà allora io scrivo per i antenati grazie grazie allora grazie per questa riflessione bellissima sul rumore sul carri di forse deve essere associata a quella del tempo questa velocità con la quale non ha questo che non ha nessuna base di studio nessuna base di riflessione nessuna base di relazione tutte queste relazioni veloci sui social ma dopo che anche la televisione ora sempre i social ma in realtà prima c'era la televisione c'è stato noi negli ultimi anni un'evoluzione o un'involuzione per alcuni versi rispetto a questi e quindi anche nella narrazione del nostro territorio e questo incide tantissimo quindi c'erano tutte le le stesse decante che se le andre che inauguravano il nostro territorio in un determinato modo adesso non c'è una narrazione molto cambiata e anche la scrittura è molto cambiata perché c'è è vero che questo è un prodotto però c'è anche una velocità c'è uno più scrittore che vittorio adesso e quindi questa necessità di produrre 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 che non ti fa avere neanche il tempo lo vedo nel teatro nel teatro e le produzioni teatrali vengono sfornate due settimane quando il mio padre mi dice prima anni due anni tre anni dovete sentimentare sì per esempio il cent'anni non fede è uno dei grandissimi attori in cui continua a fare una produzione a un infrani che è assolutamente polimentato ovviamente perché non riesce proprio a stare al passo e volevo che altro una curiosità è vero che vi dice che probabilmente è vero che probabilmente non c'è nel pensiero nel momento della scrittura già una figura di interlocutore e non è precisa però io ci vedo molto ragazzi ci vedo molto nelle nuove generazioni quello che scrivi appunto probabilmente perché è un po' anche la evoluzione professionale o forse perché è vero che scrivi per le antenate però il pensiero al futuro è sempre necessario doveroso e giusto anche rispetto all'esperienza di Aradeo e quindi all'incontro con le nuove generazioni ma anche all'incontro con le insegnanti di Aradeo se dovessi scrivere una leggenda aradeina che leggenda scriverebbe? la segna parola no non è venuta adesso così guardando un po' le insegnate allora io non penso che sto ordinare cioè allora a cui serve qualcosa per esempio per la casa vai Aradeo ma se si chiama tu chieda voi ti aschieri vai Aradeo sanità e vai Aradeo la risposta prima mi viene Aradeo è una potrebbe essere un quartiere di una delle città invisibili in Italia cioè se non ci fosse dovessi inventare Aradeo e che è completamente di vero sono paesi vicini negli Amos e quindi credo che si abbia una conformazione antropologica particolare adesso mi pare che la scuola sia Aradeo in Mediato no? esatto io non vedo questo con gli scorti lunghi positivo gli accorpamenti di istituti fatti soltanto per un fatto che si dice no all'età forse dell'autonomia rispetto all'uomo e allora forse potrei una delle tante sindrome di capire trovate la copiata e c'è una domanda difficilissima per quanto riguarda io ho avuto la fortuna enorme professionale di conoscere le generazioni che vanno da 3 a 19 3 9 e io credo che questo dovrebbe farlo chiunque nel senso che tu non puoi capire il ragazzo di 17 18 se non sai da dove viene ma quello viene da 3 e 4 e 5 e a proposito di paesi e di configurazione di un paese azzerci quando facciamo l'istruzione al primo anno e all'alberiore tu ti rendi conto subito tu ti rendi da questo paese da quest'altro da quest'altro cioè arrivano dalle scuole medie con un tipo di formazione che riferisce da paese a paese ma questo va diventare dalle persone che fanno da insegnanti e di questo deve andare bene non faccio nomi perché sennò facciamo scuole medie grazie questo da dire e voglio dire una cosa ci fu uno sciopero a Maglia io stavo a Maglia anni fa ci fu uno sciopero e poi arrivarono gruppi forti dal professionale di Maglia dove andavano al magistrale chiamiamolo così dove c'erano le ragazze e ci fu un attacco perché noi non facevamo uscire beh ci furono 4-5 ragazzoni che gli soffermano questo non si occa io stavo sul peggio e ci erano ragazzi che erano stati aglomini a Tavaglia e gli soffermano che stavano anche per te stavano allora il motivo della leggenda è questo è comunque faremo una cosa solo mi chiedo questo non pende questo non pende secondo me c'è una ragione proprio antropologica che è legata a te o per questa mia teoria non so allora Ardeo è un un paese piccolo da un punto di vista territoriale piccolissimo uno dei più più piccoli uno dei più piccoli come si è un origine territoriale c'è che territoriale non è povero non ha un centro storico legno di questo nome non ha è piccolo è piccolo Ardeo 800 entari però ad Ardeo fanno riferimento più di 10 persone compresi anche quelli che sono all'estero e che sono che fanno riferimento allora qual è la risorsa la risorsa nostra non è territorio la risorsa nostra vera su cui bisogna puntare è la persona è la persona da qui c'è stato c'è diciamo un concetto che si è sviluppato incentrato più sulla persona che sulle cose da fare che sul territorio che su gli aspetti più propriamente materiali questo secondo me è un fatto innato che però non sempre viene messo viene messo in evidenza neanche da le stesse persone che a volte non si rendono conto di questo la società complessivamente la comunità complessivamente a volte non si rende conto che deve puntare molto di più sulla persona che sulle cose che poi le persone scrivono certo questo è sì 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 cioè la diversità che così dice l'aspetto fondale rispetto alla estensione da qui la presenza per esempio di una produzione artistica culturale notevole nonostante un ambito territoriale molto piccolo e che di per sé non si mi insegnate che Corella nascia da vedere alle tre masserie si chiama io ero ragazzino venivo con un amico con un primo figlio che si ha fuori no? è fuori cioè cosa? non lo sa chi è il Corella? no 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 vabbè di chi non lo è no lo sapevo di che non si 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 a quei tempi c'era un ero piccolo mi fa punto vabbè che dobbiamo dire ma quando sono nati con lei a Giorgio non c'era l'ora no quando sono nati con lei non c'era l'ora ancora no non c'era l'ora Giorgio, veneste i primi due o tre anni quando a Giorgio venne barba ma viene spesso ma di barba ma di barba o di 40 anni fa 40 anni fa di 40 anni fa di 40 anni fa venne, deve partire partiamo dall'82 si, partiamo dall'83 si, partiamo dall'83 si, si, si io no sono importantissimi passaggi i passaggi di generazione sono importantissimi ma anche a strada di 40 anni fa strada di 40 anni fa ma non fa più o meno 4 anni fa a strada di 40 anni fa e a strada di stava dove sta stava dove sta si, si, si si, si si ma ti voglio farvi fare la tua domanda o no? no ma no si 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 ti ringrazio ti ringrazio moltissimo mi ha fatto scusatemi se mi ripeto però poi quando mi ha fatto il desiderio stare qui mi sento a casa io di solito quando faccio queste cose sono molto teso prima adesso oggi sono tranquillamente senza giocare in caracate noi possiamo dire che a radio deve tanto anche al direttore Enrico perché non l'ultimo perché è l'ultimo direttore perché dopo di tempo sono venuti i dirigenti e la scuola ha cambiato oltre si ha cambiato il tasco quando è arrivato lui che si è fatto fare dei lavori e poi poi abbiamo ecco per esempio l'idea di far nascere i libri di rendere partecipi gli adulti di farli lavorare per la scuola che era era la prima volta non avevamo fatto dei percorsi molto così eravamo già tronti diciamo che hai trovato terreno fertile terreno fertile che ben lavorato ben guidato con quelle produzioni che davvero come hai detto le leggende ma non solo quelle sul Salento tutto il lavoro sul Salento quello ha cominciato dal Mediterraneo dal Mediterraneo tutto il terreno lungo dici anni dici anni un'antologia perché c'era il lavoro l'antologia è quello che era ma la cosa è poi con la traduzione è la Dubefass e venne poi lo chiamavamo con i bambini in scuola elementare è il mio buono donato in naturale in naturale in naturale in naturale tutti Antonio Prete Antonio Prete no? c'è un luminare di letteratura imparata che con i bambini era favoloso quando si ma la cosa la cosa più bella parola che siccome intorno diciamo il tema del progetto no? lavorava la scuola materna e la scuola di Italia siccome i genitori le mamme soprattutto sono poi molti in pietra di vecchia parlavano del l'odistria nel supermercato ma che ci sta facendo la nostra stessa no capito lo sta fatti no è stato vicino sta cosa che volete a fare questa cosa no per cui veniva fuoricino e io mantevo cince però questa è la amministrazione è creare nella comunità che dicevi uno uno fino puntuale perché accomunasse io mi sono andato dopo dieci anni dopo dieci anni che ho liberato perché non arrivo più per la radio ho detto no scusate senza che mi allontano qui sono allontavato rispetto a una piccola di un po' mi allontano ci fu una conventura nel senso che mi dissero devi andare là in quella scuola vabbè devo andare però comunque non avevo più leggere adesso che faccio eravamo arrivati alle chiate cioè quando tu arriva la gamba sei alle peste tipo di quelle leggende le leggende vogliono dire questa cosa a tutti gli ragionati in particolare nascono da un umbrone e cioè da una cosa che io devo finire ma che non riesco a portare avanti da un romanzo io non riesco a portare avanti non riesco a portare avanti mi sono buttato su questo un po' di chiacchierare è un po' ma non in grado va bene allora noi ringraziamo il tipo grazie a voi e aspettate un attimo che oltre all'evento con Antonio e abbiamo altri clienti compiando dalla vicinità grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.